Grazie per il coinvolgimento a questo interessante incontro. Il tema che mi è stato chiesto di affrontare riguarda come rendere oggettivi i requisiti di sostenibilità, perché abbiamo sentito parlare di tantissimi concetti che stanno dentro al tema della sostenibilità, ma poi come li rendiamo effettivamente verificabili, oggettivi e quindi comunicabili. In questo senso vi illustrerò quello che può essere il ruolo della standardizzazione di tipo volontario. Permettetemi però tre veloci concetti rispetto al tema della sostenibilità. Abbiamo sentito parlare come questo argomento sia di grandissimo interesse per il consumatore, lo dicono praticamente tutte le valutazioni, tutte le interviste che vengono fatte, però è un tema di grande interesse anche da parte dell'amministrazione pubblica. Voi sapete bene, ad esempio, che per quello che riguarda i CAM per gli appalti pubblici sono richiesti tutta una serie di requisiti inerenti alla sostenibilità. Non solo sostenibilità ambientale, ma anche tematiche che attengono alla sostenibilità sociale, un po' meno a quella economica per quello che riguarda questo tema specifico. Un altro tema che a mio parere è di grande importanza è come supportare attraverso conoscenze e competenze di natura tecnico-scientifica questi concetti. Perché in questi anni si è parlato tantissimo di sostenibilità, in qualche modo è stata la parola d'ordine, però se guardate negli anni passati si è fatto poco in termini di applicazione di questi concetti. Qualcosa di più cominciamo a vedere adesso con alcune aziende, anche importanti, che cominciano a comunicare il proprio percorso in materia di sostenibilità. Prima abbiamo sentito parlare di aziende multinazionali, però se guardiamo anche in televisione e quindi a casa nostra vediamo che c'è il minestrone sostenibile, l'olio sostenibile, che c'è qualcuno che comunica il pesce sostenibile. Quindi sono i primi tentativi di cui in qualche maniera ci stiamo accorgendo. E allora ci dobbiamo chiedere ma che cos'è che sta dietro a queste comunicazioni, a questo tentativo di arrivare con un concetto tanto complesso al consumatore. E mi viene da pensare che questo tema non riguarda in realtà solo il marketing, perché se fosse solamente una questione di marketing probabilmente queste aziende esporrebbero anche il fianco a tutta una serie di potenziali contestazioni. E dobbiamo pertanto metterci in testa che questo è un concetto che attiene alla governance aziendale. Non è una semplice azione di marketing, perché si fa presto comunicando un requisito ambientale o sociale venire impallinati su altre tematiche. Mi viene in mente una filiera carni tempo fa che voleva comunicare la propria carbon footprint, il proprio impegno rispetto alla quantificazione degli impatti ambientali. Dopodiché a una veloce valutazione si va a vedere che negli allevamenti c'era l'amianto. Ora, ma sei proprio sicuro di volerti esporre su questo argomento quando il primo giornalista che arriva in allevamento e vede una situazione del genere ti colpisce a morte? Quindi il concetto del green claim, della comunicare qualche piccolo requisito, quando invece la situazione aziendale in generale su questi argomenti non funziona è un atto estremamente pericoloso. Ecco perché la sostenibilità va letta all'interno di una strategia aziendale su questi argomenti e non come semplice comunicazione. L'altro tema che mi sentivo di segnalarvi oggi è che comunicare la sostenibilità non è semplice per nulla perché è un concetto talmente complesso che diventa difficilissimo da capire per il consumatore e quindi è necessario adottare delle strategie di comunicazione che sono profondamente diverse probabilmente da quelle a cui siamo abituati come aziende ma anche come consumatori. E il principio generale però è quello che la comunicazione che si va a fare, qualsiasi essa sia, deve essere vera, deve essere dimostrabile. Questa non è una regola che vale solo per la sostenibilità, vale per qualsiasi comunicazione sul prodotto a livello dell'azienda e quant'altro e quindi è obbligatorio rispettare quelle che sono le norme di legge in materia. Sembra una cosa semplice ma è stato molto facile in realtà in passato dire il mio è un prodotto sostenibile, io sono un'azienda sostenibile. Quando poi si va a chiedere ma dimmi perché lo sei, lì qualche difficoltà in più in questi anni c'è stata e adesso c'è in realtà un passettino indietro perché se valutate le prime comunicazioni in materia anche solo di carbon footprint, c'era il piedone, c'era chi dichiarava le emissioni di CO2 in etichetta, avete visto che nel tempo queste comunicazioni pian piano sono state dismesse a favore di una comunicazione che non guarda più a un tema specifico ma approccia la sostenibilità per come si deve, ovvero sui tre pilastri ambientale, sociale ed economico. Se andiamo a chiedere a qualcuno che cos'è per te la sostenibilità, sono sicura che avremo n risposte diverse perché le tematiche e le difficoltà che sono intrinseche rispetto a questo concetto sono tante, ad esempio tanti consumatori dicono beh ma mi stai parlando di sostenibilità ma mi vuoi spiegare che differenza c'è rispetto al biologico ad esempio? Biologico e sostenibile sono la stessa cosa o sono concetti diversi? Oppure che cosa significa questa sostenibilità ambientale, sociale, economica? Mi vuoi dire che cos'è che ci sta dietro a questo concetto? O ancora quando parliamo di sostenibilità ci rivolgiamo ad un'azienda che adotta comportamenti sostenibili al prodotto o al territorio che esprime quel prodotto? Perché in realtà quando facciamo questo tipo di ragionamento cominciamo a porci dei quesiti. Mi verrebbe da chiedere un'azienda che adotta comportamenti sostenibili realizza sempre prodotti sostenibili? Forse no perché sono due concetti diversi, uno attiene alla governance aziendale, l'altro inevitabilmente deve considerare il ciclo di vita del prodotto. È un buon prodotto che viene realizzato nel rispetto delle buone pratiche anche agricole ciascuno a casa propria ma complessivamente il territorio che lo esprime è un territorio monoculturale che fa solo quel prodotto dove tutti sono concentrati su quel business. È un territorio sostenibile perché dobbiamo anche considerare che il prodotto è rappresentazione del territorio che lo realizza e quando quel territorio vive male determinate tematiche che possono essere sociali o ambientali o economiche prima o dopo queste criticità arrivano sul prodotto finito e ce lo insegnano tutta una serie di casi di cronaca ampiamente comunicati. Altro aspetto ma chi controlla questa sostenibilità? tu mi dici che sei sostenibile ma c'è qualche sistema di controllo alle spalle? C'è qualcuno che me lo dice? Ci sono dei modelli di riferimento a fronte dei quali tu mi stai raccontando queste cose? Ecco quindi che le problematiche possiamo riassumerle principalmente in queste quattro. Anni fa la sostenibilità veniva vissuta esclusivamente nell'accezione ambientale, pian piano si è passati a intendere e ad applicare la sostenibilità anche rispetto alle tematiche sociali ed economiche. E per quello che è in quota parte il mio osservatorio vorrei dire che negli anni c'è stato proprio uno shift. Se anni fa c'era una concentrazione molto forte sulle tematiche ambientali, adesso la gran parte delle catene distributive internazionali, parlo di Nord Europa, Nord America, piuttosto che i big player hanno focalizzato enormemente l'attenzione sulle tematiche sociali, regolarità dei contratti di lavoro, orari di lavoro, situazioni di lavoro e quant'altro. Nei fatti la comunicazione resta complessa perché abbraccia argomenti e tematiche estremamente diverse, ma a renderla ancora più complessa c'è il fatto che non c'è uno standard di riferimento, cioè non c'è qualcuno che ci dice se vuoi dichiararti azienda sostenibile devi fare così, se vuoi dichiarare un prodotto sostenibile devi fare così. E questo è un problema perché ogni volta che dobbiamo o che vogliamo comunicare dobbiamo necessariamente implementare un sistema di misurazione e di verifica. Diversamente resta pura filosofia e quando qualcuno ci vede a chiedere dimostrazione del perché stiamo raccontando delle cose ci troviamo un pochettino in difficoltà. Può andar bene a qualcuno, può andar male a qualcun altro. Mi sembra un po' la situazione vissuta anni fa rispetto alle tematiche igienico-sanitarie, no? Quando la regola non è chiara ciascuno la interpreta un pochino a modo proprio. Ecco che in questo contesto può essere d'aiuto quella che definiamo la normazione volontaria, cioè l'esistenza di standard può aiutare a definire le cose e quindi permettere di verificarle e di misurarle. E la standardizzazione volontaria nasce proprio per rispondere alle esigenze di dichiarare dei concetti a volte complessi, a volte nebulosi. Tante volte capita come organismo di certificazione che le aziende si approcciano e dicono io voglio dichiarare questa determinata cosa. Faccio l'esempio del benessere animale, ma proprio assolutamente in maniera esemplificativa. E come lo posso fare? Come lo posso supportare? C'è uno standard di riferimento? Quindi chiedono l'aiuto dell'ente di certificazione attraverso una norma volontaria per codificare qualcosa. Qualcosa che gli permetta di dimostrare il concetto che sta esponendo. E la storia rispetto alla standardizzazione volontaria ci dice che è essenziale definire le cose, applicarle per poterle misurare e conseguentemente per poterle comunicare in maniera oggettiva, efficace, robusta e quindi difendibile. Ecco il concetto di due diligence che ho cercato di esprimere prima. Quindi la normazione volontaria ha questa finalità specifica e recentemente c'è stato proprio un endorsement molto forte da parte di Calenda sulla normazione volontaria rispetto proprio anche alle tematiche della sostenibilità. Rispetto agli standard volontari siamo abituati ad alcuni standard specifici che riguardano i sistemi di gestione, quindi modelli di organizzazione dell'azienda, di gestione dell'energia, di gestione dell'ambiente, di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma la caratteristica di questi standard è che guardano all'azienda come un'isola rispetto a tutto ciò che sta intorno. Quindi io ho un buon modello di organizzazione aziendale, io gestisco bene questi determinati aspetti. se invece andiamo rispetto alle tematiche etiche vediamo che con alcuni standard specifici come può essere l'SA 8000 andiamo a coinvolgere la catena di fornitura. Quindi l'azienda in qualche maniera è obbligata a preoccuparsi non solo di quello che accade a casa propria ma anche di ciò che accade a casa dei fornitori. E questa è un'evoluzione del concetto perché significa che qualcuno si assume la responsabilità di accertare la conformità anche di chi gli fornisce un prodotto. E sempre tornando alle catene distributive internazionali ci sono anche dei protocolli paralleli a S8000 come le ispezioni che vengono fatte a fronte di SEDEX e SMETA che ci dicono come la catena distributiva ha interesse ad accertare che tutta la catena di fornitura rispetti dei requisiti specifici che riguardano la gestione dell'ambiente, la gestione dei lavoratori, la gestione degli aspetti etici in generale. Non vi parlo di igiene e sicurezza perché lo metto come prerequisito in questo contesto perché è la pietra miliare su cui andiamo poi a strutturare tutto il resto dei requisiti. Ancora ci sono state però tutta una serie di richieste che hanno portato a controllare la catena di fornitura a partire dalla fase agricola. Il benessere animale, abbiamo l'esempio degli OGM, abbiamo l'esempio della produzione integrata, quindi nel tempo pian piano gli standard sono stati necessari per poter comunicare dei claim estremamente complessi. Pensando alla tematica degli OGM, inizialmente le imprese erano molto allarmate rispetto a questo tipo di comunicazione. Banalmente c'era la preoccupazione che l'autorità pubblica potesse sanzionare perché magari si dichiarava senza OGM quando non c'era lo zero assoluto. Lo standard ha aiutato a definire la regola, controllare la filiera, sostenere in maniera condivisa quello specifico claim e arriviamo fino alla parte agricola, quindi coinvolgiamo l'intera filiera produttiva. Gli standard volontari sono stati di grande aiuto anche per valutare gli impatti ambientali. Vi dicevo prima che parlando di sostenibilità le tematiche ambientali sono forse quelle che hanno assunto nel tempo maggiore rilevanza da un punto di vista di disponibilità degli standard volontari e qui ci sono diversi strumenti oramai codificati e riconosciuti a livello internazionale per misurare l'impatto ambientale e la gran parte di questi guarda alla catena, quindi alla filiera, quindi all'intero ciclo di produzione. Nessuno di questi, salvo l'ultimo, guarda alla sola realtà aziendale, ma l'impatto ambientale è da considerarsi per tutto il ciclo di vita del prodotto stesso, a partire dalla produzione primaria per arrivare al fine vita e quindi allo smaltimento dei rifiuti. Questi sono documenti importantissimi perché definiscono proprio come si va a valutare l'impatto ambientale. Tante aziende vogliono dire io impatto di meno, questo prodotto ha un impatto ambientale inferiore rispetto ad un altro e come lo misuriamo, come lo vediamo, come lo confrontiamo? Questi documenti sono di aiuto, alcuni guardano solo a determinati indicatori ambientali come ad esempio la carbon footprint o la water footprint, altri come la PEF che è una metodologia riconosciuta e promossa dalla Commissione europea, ci permettono invece di andare a valutare ben 14 indicatori di impatto ambientale e quindi consentono di avere una fotografia molto più ampia rispetto alla sola carbon footprint. La caratteristica trasversale di questi standard volontari qual è? Innanzitutto sono degli strumenti, nessuno ne impone l'utilizzo, sono degli strumenti che le imprese hanno a disposizione per supportare la propria comunicazione, sia che sia una comunicazione verso gli stakeholder, sia che sia una comunicazione aziendale, sia che sia una comunicazione in etichetta. Sono trasparenti nel senso che ci si misura utilizzando lo stesso documento normativo, quindi ci può essere anche una sorta di confrontabilità rispetto alle aziende, si gioca con le stesse regole fondamentalmente e con lo stesso livello di trasparenza e di qualità rispetto al dato che viene fornito e che viene utilizzato. E sono volontari, cioè un'azienda può anche scegliere di applicare un determinato standard e di non arrivare alla certificazione. La certificazione è un ulteriore strumento che va a dichiarare che l'azienda effettivamente si è comportata e si comporta secondo quelle regole e che quei dati che sta producendo sono dei dati robusti ed efficaci. Però nel raccontarvi questi standard io vi ho fatto vedere sicurezza, ambiente, strumenti di misura per gli impatti ambientali, ma nessuno di questi affronta a 360 gradi il tema della sostenibilità. Quindi se un'impresa volesse occuparsi di sostenibilità, quali strumenti normativi in ambito volontario può utilizzare? Io ve ne cito due, ma nessuno dei due risolve il problema, perché la ISO 26000 è una bella norma, ma è una guida, quindi definisce dei principi generali di applicazione e dice che per parlare di sostenibilità, per parlare di responsabilità sociale, bisogna guardare a tanti aspetti che vanno dall'ambiente alle prassi gestionali, alla gestione della comunicazione verso i consumatori, ai rapporti alle condizioni di lavoro, ai diritti umani e al coinvolgimento della comunità. Ecco, rispetto agli altri introduce un concetto, che è la gestione della collettività e della comunità locale. Il limite di questa norma qual è? È che non definisce esattamente gli indicatori, cioè non mi dà le regole specifiche che ciascuno deve applicare per ottemperare a ciascuno di questi ambiti. Un'altra norma più recente ed estremamente interessante, ma poco applicabile anche in questo caso a realtà produttive, è questa 37101 che parla di sviluppo sostenibile nelle comunità. E a chi serve questa norma o a chi può servire? È una norma che guarda in realtà alle amministrazioni comunali, ai territori, alle province, perché definisce dei principi essenziali per la governance di una collettività. E è interessante perché anche qua troviamo molti degli aspetti che abbiamo già visto prima e andiamo a toccare ancora più tematiche che interessano il cittadino più che il consumatore in questo caso. E quindi un altro elemento che è interessante è che nel tempo alcune imprese hanno dovuto dotarsi di strumenti riconosciuti che potessero consentire di dichiarare la sostenibilità dei prodotti. Ecco che cominciamo ad andare verso logiche che sono più interessanti magari per chi produce un bene. E quali sono gli standard riconosciuti? Intanto vediamo che nessuno di questi è stato definito dagli enti normatori riconosciuti, quindi non sono standard ISO, sono standard privati, standard che vengono messi a punto da gruppi di interesse. Nel caso del pesce ci sono due standard, MSC e Friend of the Sea. Nel caso della soia, che forse è in questo momento uno dei temi di maggior interesse, sono stati definiti degli standard di sostenibilità validi a livello internazionale. E molte catene distributive, oltre che Big Player, Nestlé, eccetera, hanno definito proprio dei modelli di sostenibilità applicabili a questo prodotto che è considerato uno di quelli più impattanti da un punto di vista della sostenibilità. E ci sono anche quotazioni in borsa merci completamente diverse rispetto al fatto che il prodotto possieda o meno una determinata certificazione fra quelle che sono riconosciute. Caffè, tè e cioccolato hanno definito un altro standard ancora che ha un focus molto spinto sulla gestione dei lavoratori e quindi l'etica lungo tutta quanta la filiera. A livello italiano è stato realizzato uno standard privato che si chiama Equalitas per la sostenibilità delle imprese del settore vitivinicolo e per il vino stesso. C'è uno standard che guarda alla biodiversità, che è stato prodotto dalla World Biodiversity Association, che a dispetto del nome è un'organizzazione che ha sede a Verona. E poi c'è uno standard che è il case history che vi presento oggi, che abbiamo messo a punto noi come CSQA e che definisce la sostenibilità dell'olio extravergine di oliva. Scusami Maria Chiara, ti prego di arrivare alle conclusioni che sono un po' lunghe. Datemi qualche secondo ancora. Grazie. Quindi il tema diventa, bene, al di là di standard riconosciuti, che cosa possiamo fare? Io vi porto il caso dell'olio extravergine di oliva come spunto in realtà per il settore lattiero caseario, perché abbiamo visto che non c'è nulla di codificato. E che cosa è stato fatto? Un'impresa lungimirante dice io voglio implementare un sistema di sostenibilità di produzione dell'extravergine di oliva che sia aggregante, quindi non lo voglio fare solo per me, voglio definire un modello valido per tutta quanta l'Italia. Questo lavoro ha coinvolto non solo l'impresa interessata ma le associazioni di riferimento e insieme è stato utilizzato questo approccio metodologico. Definiamo i requisiti, quelli che per noi sono i requisiti di sostenibilità, definiamo gli indicatori, prevediamo la verifica per poter dichiarare sul prodotto la sostenibilità. E questo è stato definito all'interno di una norma, di uno standard, di un documento normativo che diventa il documento normativo per il settore, quindi non il case history specifico per quell'azienda, non un approccio aziendale ma un approccio collettivo. E in questo caso i pilastri che sono stati considerati sono quattro, non tre, perché rispetto ai tre canonici per un prodotto come l'olio si è scelto di inserire anche i parametri nutrizionali perché particolarmente valorizzanti. E su questi sono stati calcolati, definiti i requisiti e gli indicatori che toccano tutte le tematiche che a vario titolo abbiamo descritto quest'oggi. L'azienda e tutta la filiera hanno scelto non solo di applicare uno standard ma anche di certificarlo perché la certificazione è lo strumento per comunicare a terzi la veridicità dell'informazione che viene trasferita. Allora ci chiediamo bene, ma per la filiera artiero casearia dove non c'è niente, dove ci sono tante iniziative private, qual è l'approccio che possiamo utilizzare? Quali sono gli indicatori o i requisiti che possiamo valorizzare? Certo c'è tutto il tema del benessere animale, c'è il tema della gestione responsabile del farmaco, degli impatti ambientali e quant'altro, ma questi vanno codificati, altrimenti ogni impresa focalizzerà l'attenzione sui propri requisiti e non saranno confrontabili con quelli degli altri. È un approccio questo assolutamente proattivo ma aziendale che nei fatti non aiuta l'armonizzazione del concetto una volta che il prodotto è immesso in commercio e rischia anche di creare tanti approcci diversi rispetto alle catene distributive che poi hanno un loro approccio specifico. Nel caso del settore lattiero caseario, a mio parere, non dobbiamo dimenticare il fatto che tanti prodotti sono anche prodotti dopo IGP, quindi c'è già una cultura della collettività e di un approccio armonizzato su determinati argomenti e l'auspicio sarebbe proprio quello di calare con lo stesso approccio anche la definizione dei requisiti di sostenibilità, sviluppando in maniera del tutto proattiva e non reattiva uno standard unitario unico, valido per il settore lattiero caseario, così come è stato fatto nel caso del vino, nel caso dell'olio extravergine di oliva. Questo è un pochino l'auspicio, quindi lavorare insieme per arrivare come Paese Italia ad uno standard da proporre all'esterno, sia hanno catene distributive nazionali, sia hanno catene distributive internazionali, perché l'alternativa allo sviluppo di standard unitari è quella di dover applicare gli standard che qualcun altro ci imporrà, ognuno con la propria specifica visione. Tra l'altro esiste uno strumento nuovo che è stato messo a punto dal Ministero delle Politiche Agricole e che prevede anche il riconoscimento di standard volontari di particolare valore e quindi si può anche andare in questa direzione specifica. Concludo dicendo che la direzione è chiara, non possiamo crogiolarci sui requisiti igienico-sanitari, punto, ma dobbiamo andare verso questi altri requisiti di sostenibilità in generale. E così come diceva il Dottor Disegna, non c'è una ricetta che è valida per tutti e non c'è neanche il concetto del tutto è subito, perché inevitabilmente stiamo parlando di un percorso che può essere affrontato anche in maniera graduale e questa gradualità deve essere codificata in modo da operare tutti nella stessa maniera. Mi fermo, visto che ho ampiamente sforato, ma resto a disposizione per chiarimenti. Grazie Maria Chiara. La prossima presentazione è di Aldo Galbusera, del Silder, su packaging e sostenibilità. Mentre Aldo prende posizione al podio, vorrei fare una domanda ad Antonio Boselli, Allevatore e Presidente di Confericoltura Lombardia. Grazie. Elisabetta posa il microfono, per favore. Antonio, in termini di sostenibilità, le aziende da latte italiane possono competere con le aziende tedesche e francesi? Allora, sicuramente sì, però dobbiamo partire da due realtà che sono completamente diverse. Abbiamo una realtà tedesca-francese che per unità bovina può vantare più ettari rispetto ai nostri. Noi abbiamo aziende piccole con elevati carichi di bestiame. E purtroppo questo rappresenta un grosso limite, considerato anche quello che ci ha detto la dottoressa Ferrarese, perché la comunicazione, il consumatore percepisce una certa sostenibilità in agricoltura. Noi purtroppo dobbiamo avere anche una sostenibilità invece che sia molto più reale e molto più misurabile. Quindi queste due differenze sono innanzitutto fondamentali. La differenza tra noi e gli stranieri. Gli stranieri producono in azienda la maggior parte di quello che danno da mangiare i loro animali. Fanno molta più rotazione sui terreni, quindi comprano pochissimo, mentre noi siamo costretti a comprare molto di più. E mi è venuto in mente il grosso lavoro che dovremmo fare a Bruxelles sul fatto di non farci imporre una sostenibilità da qualcuno che può fare molto meglio di noi. E faccio l'esempio pratico delle DOP. I disciplinari delle DOP, per tutta Europa, il 100% di quello che noi diamo da mangiare agli animali deve essere prodotto all'interno dell'areale di produzione. Per le nostre DOP, dal grana al parmigiano al prosciutto di Parma, siamo al 50%. Allora, se ci verrà imposta una sostenibilità calzata sui paesi del nord Europa, rischiamo di fare fatica poi sul territorio italiano. Ricordo a tutti che l'Italia non è autosufficiente per quello che produce e che in questi ultimi 5 anni il tasso di autoprovvigionamento è passato dall'83 al 78%. Ulteriori vincoli e standard rischiano di far retrocedere la nostra agricoltura. Quindi, personalmente come Confagricoltura, ma anche come Antonio Boselli, allevatore, la sostenibilità deve essere supportata da ricerca, innovazione e sostenibilità non vuol dire regredire nella quantità di produzione. Anch'io mi fermo qua e resto a disposizione. Grazie. 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 Grazie.